Il Palazzo dell'emiciclo, sede del Consiglio regionale, torna ai cittadini abruzzesi nell'originaria forma e con qualche novità. Il piazzale è stato riconnesso alla villa comunale, con la rimozione della recinzione comparsa negli anni Ottanta. La facciata restaurata ha ritrovato lo splendore originario del massiccio intervento del 1888, quando all'emiciclo trovò sede l'esposizione regionale e poi quella dei successivi interventi tra il 1972 e il 1984, quando divenne sede del Consiglio. Oggi l'emiciclo si presenta con una nuova sala ipogea a disposizione di cittadini, la biblioteca, una preziosa vetrata artistica e un giardino d'inverno. L'intervento di restauro è costato 8 milioni di euro, spesi tra l'emiciclo e il Palazzo Ex-Gil. Tre spazi pubblici aperti, l'emiciclo che è un'arena all'aperto che può essere utilizzata per concerti, manifestazioni, rappresentazioni teatrali, la grande navata e la sala ipogea a giù che è una meraviglia. È un impegno che ho preso il giorno del mio insediamento di fare questo dono alla città dell'Alguila, capoluogo di regione.